I numeri ci dicono che evidentemente in Italia ci sono almeno 200.000 musulmani che in qualche modo giustificano, se non condividono, quello che è accaduto a Parigi. A me fa enormemente piacere che l'80% lo condanni, perché mi sembra che sia nell'ambito dell'umanità. Credo che sia assolutamente disumano che ci siano 200.000 persone in Italia, prudenzialmente, credo che il nostro statistico possa concordare, che invece giustificano quanto è accaduto. Ma chi può giustificare quanto è accaduto? Credo che nessun essere umano può giustificare quanto è accaduto. E' fatto male la statistica. E' colpa del sondaggio? E certo. Professore, se lei chiede a un suo collega, professore di statistica, le dimostrerà che se avessimo interpellato probabilmente anche, diciamo così, clandestini, questi dati sarebbero stati ulteriormente preoccupanti. E che sia un elemento che preoccupa anche le comunità islamiche cosiddette moderate che di questi soggetti in qualche modo dovrebbero preoccuparsi. Qui non è che non siano integrati, non vogliono integrarsi. Dichiarano esplicitamente a una telefonata da parte di un sondaggista che potrebbe essere anche un'autorità di pubblica sicurezza. Quindi lo dicono esplicitamente che non vogliono integrarsi. E quindi la domanda che ha fatto prima l'Evespa mi sembra legittima. Se non vogliono integrarsi, cosa stanno qui a fare? Possono certamente cercare altre realtà dove molto probabilmente potrebbero integrarsi meglio. Però questo dato va letto congiuntamente a, ripeto, quello che abbiamo visto prima, la giustificazione che viene data dell'attentato, che ribadisco, è un qualche cosa di disumano, proprio concettualmente. Quindi c'è questo 10-12% che è una costante, tra i residenti, e continuiamo a non considerare tutti coloro che non sono registrati, cioè tutti coloro che sono nella clandestinità, che potrebbero avere per carità idee diverse, in un senso o nell'altro, io penso, ovviamente in senso peggiorativo, che dicono non vogliamo integrarsi e sostanzialmente hanno fatto bene a fare così. Allora, la statistica è una scienza rispettabilissima, però è anche la scienza di cui diceva Trilussa, se io ho mangiato un pollo e lei non mi ha mangiato nulla, abbiamo mangiato un pollo con la testa. Allora, io da molti mesi, e Zedin ne lo sa, io da molti mesi sto facendo la caccia ai refrattari, cioè al famoso 10%, non sapevo che erano 10%, però non mi interessa il musulmano integrato, e non mi interessa nemmeno il musulmano che sta benissimo, né il musulmano che non sta tanto bene ma dice un po' le bugie, dice che sta bene, perché ci sono anche quelli, poi la gente spesso ha paura a dire la verità, ed è anche comprensibile. Mi interessa il musulmano non integrato. E chi ha scoperto? Beh, ho scoperto questo anche recentissimamente, facendo un giro di telefonate fra amici, eccetera. Quelli che dicono no, io vengo qua, perché voi...